partite spy story si propone al comando per linee interne nei confronti di secret sharp che ha ai fianchi vapor trial segue in quarta posizione mac and raw con in coda bear girl dopo i primi 400 metri di corsa sempre spy story al comando ora superata all'esterno da vapor trial che si trascina sharp secret sharp e anche mac and raw che ora risale in seconda posizione nella scia di mac and raw secret sharp all'interno spy story e in goda bear girl lungo la curva vapor trail prosegue al comando al suo esterno sempre mac and raw in terza posizione ha postato secret sharp a precedere spy story all'interno con in coda bear girl cavalli ora all'ingresso in retta di arrivo vapor trail cede presto e lascia al comando secret sharp che lungo la corda è passato in vantaggio anticipando mac and raw e bear girl quindi spy story siamo a 400 dal palo sta allungando secret sharp nei confronti di mac and raw in terza posizione wear girl quindi spy story siamo a 250 dal palo con secret sharp che sta mantenendo il vantaggio nei confronti di mac and raw che ci prova più indietro gli altri capeggiati da werder nel tratto finale secret sharp mantiene la meglio e si impone chiaramente su mac and raw poi burger e spy story andiamo a rivedere immagini con carletto fiocchi in sella al numero due dello schieramento secret sharp che si è imposto in questa seconda corsa di napoli per i colori della scuola carlisia al posto d'onore il numero uno mac and raw davanti al numero tre quindi due uno tre il probabile e ufficioso arrivo della seconda corsa di napoli